Oggi pomeriggio per la nostra intervista settimanale siamo con due dei ragazzi protagonisti del gruppo dei 2002, i giovanissimi fascia B d'eccellenza dell'Ossia Mare di Mister Cabriolo, che stanno veramente facendo una striscia di risultati positivi incredibile, ben 11, 7 vittorie e 4 pareggi e sono risaliti al quinto posto a 33 punti. Noi siamo con Valerio Proietti e Alessandro Contessa, l'uno capitano e l'altro attaccante, che è stato protagonista con una doppietta contro il Riedi nel 3-0 vittorioso dell'Ossia Mare. Buonasera a tutti e due e complimenti per la vittoria naturalmente, per questo grande momento. Io inizierei proprio dal capitano per parlare di questo successo 3-0 contro il Riedi, una vittoria importante. Sì, molto importante e poi sì, una grande emozione di non perdere tutte queste partite. Una striscia importante, dicevamo 11 risultati utili consecutivi da quella sconfitta con l'Accademia che c'è stata addirittura prima di Natale, quindi prima del 2016, una lunghissima striscia di risultati positivi. Ma andando proprio alla vittoria Corietti, Valerio, è arrivato non solo il successo ma anche questo primo gol stagionale. Sì, una grandissima emozione, merito anche dell'altro attaccante che ha preso un buon rigore. Io ho sfruttato questa occasione e ho esordito il mio primo gol in campionato. Il primo gol in campionato. Al tuo gol poi si è unita la doppietta di uno scatenato Alessandro Contessa che è arrivato a quota 5 in questa stagione. Raccontaci un po' le emozioni di questa doppietta. Un'emozione fortissima, questa prima doppietta in campionato. Al primo anno lo stiamare e spero che ce ne possano essere tante altre. E allora, visto che è il tuo primo anno, raccontaci anche un po' come sta andando con il mister, con il mitico dirigente Pino, con tutti gli altri. Sta andando molto bene, in campionato non avevamo iniziato nel migliore dei modi ma stiamo andando molto bene grazie anche all'aiuto del mister e grazie a questo gruppo ci sta sempre più sorprendendo. Perfetto. Valerio, adesso impegno importante con il Tor di Quinto, c'è tanta voglia di proseguire, di chiudere questa stagione al meglio, di fare altri punti, di mettere appunto altro fieno in cascina come si suol dire. Eh sì, tutta la squadra vuole proseguire queste vittorie senza fermarsi ed è importante perché il Tor di Quinto sta proprio davanti a noi e dobbiamo diminuire questo sorpasso. E allora, prima di chiudere sempre con il capitano, andiamo ad Alessandro per una doppia dedica per questa doppietta. Beh, la dedica sicuramente alla squadra, dato la prima doppietta in campionato e la dedica anche al capitano per il suo primo gol stagionale. E allora rimbalziamo dal capitano con la sua dedica per questo primo gol stagionale e appunto con i 2002. Beh, io lo dedico a tutta la squadra perché essere il capitano di una squadra è una grande emozione e anche una grande responsabilità, perciò tengo tanto a portare avanti questa squadra. Perfetto, allora ragazzi complimenti ancora per la vittoria e naturalmente in bocca al lupo per la prossima sfida e per quelle che seguiranno e forse ossia mare naturalmente. Perfetto, allora ragazzi.